Secondo me oggi siamo state bravissime, tutti i fondamentali, era una partita importante per noi anche perché la partita dell'andata non abbiamo giocato molto bene contro loro quindi volevamo dimostrare di essere cresciuti e secondo me ce l'abbiamo dimostrato. Un palazzetto questo che diventa sempre più difficile per le squadre avversali? Sì, noi comunque giochiamo sempre abbastanza bene qua e gli avversari sono un po' in difficoltà però secondo me anche il merito nostro è che mettiamo le squadre sotto pressione non sempre dal primo set però...